Beh, certo che ringrazio tutti quanti quelli che mi hanno fatto gli auguri degli 82, chi mi augura ancora 8 anni, chi 18 anni, addirittura fino a 100, non ha importanza, dove si arriva si arriva, grazie. Ma io voglio ringraziare due ragazzi che mi amano tanto, che addirittura hanno creato delle grandi associazioni, uno è Calogero senza fare il nome, Sicilieno che ha fatto addirittura un'associazione che si chiama Noi chiamiamo Banfi. Beh, io mi sono scritto queste parole che credo ti faranno piacere, caro Calogero, tu sei raccoglietore differenziato dei ricordi cronologici, perché dove chezzo le trovi tutte queste foto mie da quando ero bambino, e poi le sai mettere in ordine, vuol dire che mi stimi e mi vuoi bene. E l'altra è Lili, ormai Lili è famosa capofan sia del medico di famiglia che degli altri miei figli. Insomma, ringrazio di cuore a tutti, anche quelli che non mi hanno fatto gli auguri, ma che mi vedono, perché io non è che seguo molto queste cose, però i miei figli mi tengono informati e mi mettono ogni tanto su Facebook. Un bacione a tutti quanti e grazie.